Sol, dorme in pericolo. Forza, fammi entrare. Eklos, Lord degli Eclipsion. Sì, sì, sì. Basta con le formalità. E io ero sul punto di distruggerti per sempre. Impulso del caos! Cosa? Bene, bene, bene. Guarda chi è arrivato. I piccoli guardiani di Gorm. Proprio qui, tra tutti i luoghi possibili, siete fortunati. Ho dei giocattoli per farvi divertire. I miei dronocchi! Con un unico frammento avresti energia sufficiente per spazzarli via tutti. Ce l'hai? Non ancora, ma... Ora sento che la mia forza sta tornando. Non serve che i guardiani ci conducano al quarto frammento. Gormiti! 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 Gormiti!